Presidente Poseca, la settimana passata è stata una settimana calda dal punto di vista delle verdenze sui trasporti. Arriva la notizia del finanziamento della Regione per l'allungamento della pista. È la volta buona? La cautela è d'obbligo quando si parla di infrastrutture in provincia di Foggia e anche e soprattutto del Gino Lisa. La settimana scorsa è stata una settimana molto positiva dopo l'incontro che abbiamo avuto con il Presidente della Regione. è una disponibilità, un'apertura molto positiva. Il tema del 5% va risolto partendo dal presupposto che il 5% deve o dovrebbe garantirlo il beneficiario dell'investimento, cioè l'Aeroporti di Puglia, attingendo a proprie risorse ordinarie o a un proprio credito bancario e non a risorse pubbliche. Questo è l'unico limite, ma il territorio si attiverà anche, eventualmente, nel caso in cui l'Aeroporti di Puglia non potesse o non volesse garantire questo 5%, a raccoglierlo e a trovare poi le modalità per garantirlo. Qualcuno si è fatto avanti come confastigianato, quindi lei non è d'accordo perché tocca ad Aeroporti di Puglia, secondo lei? No, non è che non sono d'accordo. Io sono certo che il soggetto unico, soggetto competente e titolare è Aeroporti di Puglia, tant'è vero che se dovesse essere il territorio a raccogliere quei soldi dovrebbe poi dargli ad Aeroporti di Puglia, che è il committente di beneficiario del finanziamento. Però non posso escludere che Aeroporti di Puglia possa ritenere che, per esempio, non ha possibilità di aumentare il proprio livello di indebitamento, non ha le risorse per poterlo fare e chiede al territorio una collaborazione. E noi siamo disposti a darlo, quindi la risposta di confartigianato, della nuova sezione delle piccole e medie imprese di confartigianato, è una risposta molto positiva di un gruppo di imprenditori che assumono responsabilità in questo senso. La Camera di Commercio intende anche avviare un comitato di raccolta di queste risorse, coordinando tutte le disponibilità in questo senso, compresa quella del confartigianato, per arrivare a raccogliere questi 4, 5, 600 mila euro, non sappiamo bene ancora quanto sono, perché dipende poi dai ribassi che la gara avrà determinato, ma intende raccogliere queste risorse, dopodiché capiremo come le potrà mettere a disposizione gli aeroporti di Puglia e in cambio di che cosa.